in questo numero di qui europa magazine ucraina dal consiglio affari esteri nuovi aiuti per 500 milioni l'euro digitale ci sarà ma i tempi ancora non sono certi una nuova direttiva contro la violenza domestica raggiunto l'accordo politico tra i paesi membri dell'unione europea per i nuovi aiuti militari all'ucraina i 27 ministri riuniti a bruxelles per il consiglio affari esteri hanno dato il via libera a una tranche di risorse del valore complessivo di 500 milioni di euro nell'ambito dello european peace facility nel corso della riunione sono stati sciolti nodi politici più complicati legati soprattutto alla posizione dell'ungheria che ha dato il via libera dopo le perplessità iniziali il consiglio affari esteri ha approvato anche una misura di assistenza aggiuntiva del valore di 45 milioni di euro per l'addestramento delle forze ucraine il sostegno militare totale nell'ambito dello european peace facility sale così a 3,6 miliardi di euro c'è un atteggiamento molto positivo di sostegno all'ucraina da parte di tutti quanti si è di fatto confermata l'unità politica dell'unione europea dei paesi che fanno parte dell'unione per continuare a sostenere dal punto di vista sia militare sia economico sia finanziario e pensando anche poi alla ricostruzione dell'ucraina quindi faremo di tutto perché l'ucraina possa difendersi dall'invasione russa l'euro digitale ci sarà ma non è ancora chiaro quando e come la banca centrale europea deciderà in autunno se avviare i programmi per adottare il nuovo strumento il progetto infatti ancora allo studio come ha spiegato fabio panetta membro italiano del consiglio della bce nel corso di un'audizione alla commissione affari economici e monetari dell'europarlamento i problemi da risolvere sono numerosi a cominciare dalla tecnologia da adottare sarebbe necessario infatti trovare un canale alternativo a quello attuale di trasferimento di fondi attraverso i bonifici bancari in pole position c'è la blockchain utilizzata per i bitcoin secondo panetta è una tecnologia efficiente per i sistemi decentralizzati ma ancora non vi è nessuna esperienza di utilizzo per un sistema molto ampio con l'attuale livello di sviluppo della tecnologia sarebbe di fatto impossibile pagare piccoli importi a causa della lentezza del processo c'è poi il problema della riservatezza considerando le caratteristiche della blockchain che salta all'intermediazione di una banca a differenza di quanto accade oggi con i bonifici i trasferimenti avvengono direttamente fra due soggetti senza alcun controllo sull'origine e la destinazione dei fondi per la bce spetterà ai legislatori decidere l'equilibrio tra la privacy e altri importanti obiettivi di politica pubblica come la lotta al riciclaggio di denaro il contrasto al finanziamento del terrorismo e la prevenzione dell'evasione fiscale rafforzare la tutela dei bambini nel contrasto alla violenza domestica è l'obiettivo delle proposte a cui sta lavorando la correlatrice caterina chinnici eurodeputata del pd per il parere di competenza della commissione giuridica del parlamento sulla direttiva europea sul tema se ne è parlato a bruxelles nel corso di una conferenza a cui hanno preso parte europarlamentari ma anche giuristi ed esponenti del mondo della cultura caterina chinnici ha sottolineato il ruolo da apripista svolto dall'italia sul fronte della tutela dei bambini quelli che noi in italia grazie al lavoro fatto anche dalla giurisprudenza abbiamo ormai individuato come bambini vittima di violenza assistita che hanno diritto quindi ad avere la tutela la stessa tutela che hanno le vittime dei reati perché credo sia ben comprensibile per tutti come per un bambino assistere ad atti di violenza a volte veramente drammatici nei confronti della propria mamma beh sia estremamente traumatico ed è un trauma che rischia di segnare quel bambino per tutta la vita allora intervenire con misure di tutela adeguate nei confronti di quel bambino vittima anch'esso di quella violenza beh è di fondamentale importanza la magistrata marisa scavo e l'attrice donatella finocchiaro hanno posto l'accento sull'importanza del lavoro culturale contro la violenza di genere nell'ambito proprio dell'impegno per il contrasto alla violenza di genere la violenza domestica è molto importante lavorare sul cambiamento culturale lavorare a livello preventivo e quindi la prevenzione passa anche dal cambiamento culturale è molto importante dedicarsi proprio alla formazione dei giovani e noi giriamo molto come magistrati nelle scuole proprio per far capire ai ragazzi che cosa significa rispetto per me il problema è fondamentalmente culturale è un problema di educazione alla non violenza cioè è un problema quindi che bisogna noi genitori renderci responsabili di questa educazione e noi come scuole anche gli insegnanti devono educare i nostri bambini alla non violenza